Haidi Baci e Massimiliano Varrese, la storia infinita, o forse la storia che non è mai iniziata. A voi cosa sembra? È una storia che attiene tutti confiato sospeso, una storia a cavallo di… Se scappi ti sposo, e il triangolo amoroso segreto. Benvenuti su Reality Vibes, il tuo canale di notizie e gossip sui reality show. Nella settima puntata di questa edizione, Haidi ha deciso di fare chiarezza su questa situazione tanto discursa. Beh deciso è una parola grossa, diciamo più che è stata elegantemente invitata a dichiararsi. Ed ecco cosa succede nella Mystery Room. Ma prima metti un like al video ed iscriviti al canale per nuovi contenuti sui reality. Nella Mystery Room, è stato lì dove le è stato mostrato un video in cui Massimiliano dichiara apertamente i suoi sentimenti per lei. OM Assimiliamo perché sei tu Massimiliano. In un vittorio. Metti un like al video ed iscriviti al canale per nuovi notizie e aggiornamenti. Incalzata da Alfonso Signorini, Haidi sembra cedere alle avance di Massimiliano e ammette che si Massimiliano le piace, per poi svegliarsi e dichiarare tutto il contrario. Sarà che si è ricordata di vittorio. Haidi ha pasticciato con l'italiano e si è destreggiata bene ammettendo che sebbene ci sia una simpatia reciproca, il sentimento non è così intenso da parte sua. Sarà che lei ha bisogno dei suoi tempi, sarà che siamo ancora all'inizio dello show. Sarà anche che forse le piace giocare e tenere il piede in due scarpe. Ma la sorpresa più grande è avvenuta quando Haidi è scesa nel salone della casa per confrontarsi direttamente con Massimiliano che apertamente esclama, «A me ha seccato così! È inutile, me ne farò una ragione e vado avanti! Che devo fare? Non sono innamorato, è una parola grossa, ma mi piace molto! Da qua innamorarsi! Cosa pensate delle dichiarazioni di Massimiliano? Dovrebbe insistere o accettare la decisione di Haidi?